Questo video riguarda i migliori tre cuffie Bluetooth. Il vincitore della qualità è il Rullefiss Cuffie Bluetooth. Queste auricolari Bluetooth sono dotate di un chip Bluetooth 5.3. Il raggio di trasmissione del Bluetooth può raggiungere i 15 metri di distanza. Rispetto alle precedenti cuffie Bluetooth 5.2 Sport, hanno un collegamento più stabile, una maggiore compatibilità, riproduzione e velocità di trasmissione due volte superiore. Gli cuffie wireless sono ergonomiche e dotate di tre tappi in silicone, progettati per diverse forme di orecchio. I morbidi ganci per le orecchie si adattano bene ai contorni dell'orecchio e le auricolare non cadono anche durante l'esercizio faticoso. Le nostre cuffie Bluetooth utilizzano l'esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua negli auricolari Bluetooth sinistra e destra e nella custodia di ricarica. Gli cuffiette Bluetooth sono dotate di componenti acustici avanzati che forniscono uno stereo Wi-Fi estremamente stabile. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il TIC Sounds cuffie Bluetooth. Accoppiamento in un solo passo e controllo touch intelligente. Aprire il coperchio della custodia di ricarica e gli auricolari wireless si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Cuffie Bluetooth con pulsante di controllo intelligente touch control e multifunzionale, come ad esempio riprodurre musica, rispondere alle canzoni di commutazione di chiamata e attivare Siri. Gli cuffie offrono 7 ore di musica, mentre la custodia di ricarica le estende a 35 ore. Le X15 cuffie Bluetooth vantano una protezione IPX7 che resiste agli spruzzi quotidiani di acqua, sudore e pioggia. Perfette per il fitness e per i viaggi. Le cuffie wireless sono ergonomiche e dotate di tre tappi in silicone, progettati per diverse forme di orecchio per garantire una comoda vestibilità. L'auricolare senza fili utilizza l'esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza rimanente della custodia di ricarica. Il vincitore del premio è il Vimi Cuffie Bluetooth, progettati per essere sia leggeri che ergonomici. Il materiale resistente al sudore rende gli auricolari wireless perfettamente funzionanti anche quando il sudore gocciola. Gli auricolari wireless sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 3,5 G ciascuno. La custodia di ricarica con interfaccia USB-C fornisce circa 35 ore di autonomia totale. Con il controllo touch intelligente, Cuffie Bluetooth in Air possono regolare il volume, riprodurre e interrompere musica, rispondere e riagganciare le chiamate senza utilizzare il telefono. Auricolari Bluetooth 5.1 Il microfono ad alta definizione incorporato, con una distanza di connessione stabile fino a 10 M, fornire un'esperienza stereo Wi-Fi estremamente stabile. Basta aprire il coperchio di ricarica degli auricolari Bluetooth e si collegheranno automaticamente al telefono. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.